Eccoci Ah proprio già sento, va bene va bene Meteoriti 2005 non so se l'avevi già ripreso prima Ciao Valentini, regista e io che sarei? Tu sei il regista Io sono l'operatore direttore della fotografia No no, lui è regista, io sono quello che lo scrivo Meteoriti parte prima lui è il vero regista lui è il vero regista lui è il vero regista Meteoriti parte prima Meteoriti 2005 Genova 2005 Inizio? E' bello che questo film qua, con Genova capitale della cultura non c'entra un cazzo non c'è niente una settimana di lavorazione una settimana di lavorazione per la preparazione poi ovviamente dopo ci sarà montaggio eccetera eccetera c'è un intruso però questo, ecco, l'intruso è l'attore l'attore il secondo attore ho anche fatto l'attore zero punto il secondo è accanto il condometrario sei il secondo è accanto il condometrario manca l'attrice e arriverà tono chi chiama l'attrice è un attore? Beh c'è Susanna Susanna è un attore tutto pieno di donne questo film tutto pieno di donne i meteoriti infatti sono proprio meteoriti c'è anche molto meteorismo? no, scusate anche un po' però insomma noi ci stiamo facendo un pulatore questo film qua quindi... meteorismo ovviamente sta bene sta bene che la gente è morta sta morta va bene quella lei è l'entratrice lei è l'entratrice quella che riprende adesso